Tutti i colori del mio balcone, senza rinunciare a clima accogliente e riparo dal vento. Con le vetrate Weezy basta un gesto. Apro al fresco, chiudo al caldo e mi godo i miei spazi. E con pioggia, vento, affa e rumori, ho chiuso. Con le vetrate Weezy in ogni stagione ho l'ambiente ideale. Goditi balconi, terrazze e spazi esterni. Scegli le vetrate Weezy. Se non è Weezy, non è una vetrata.